Ammazza che fenomeno che so, in tre giorni ho imparato il cinese. Sono venti minuti che aspetto. No, finalmente sono arrivato. Nico! Ma che cosa guarda tu? Un piatto ungherese. Che piatto? Ergurash! Ma c'è... Nico, prego, accomodate, prego Nico, accomodallo, accomodallo, prego. Che c'è detto, čoo? then un po i Si, che c'è allora? Sì, pleco, 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 chi sa? Goli, ne ha venuto il vento, ma come è? Ah, in me? In queste basi, in queste goli, gli ho chiesto il vento. Ho chiesto il vento, come è? Dove, non c'è il vento, non c'è il vento. Chi sa? 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 Eh, che tu? Ma lei conosce l'ucinese? Sì, è l'amico mio, è da piena sigaretta, che ti serve per che cosa? Ma no, la lingua. Ah, lingua, sì, qualcosa parlo. Ma tu hai chiesto il conto? Eh, tu credo, vedi la gente che c'è, così sei sbrigando. Ma io ho chiesto un po' di riso. E ce lo so, e ce lo so, vedi questo, eh? Ma io vado a piare. Oh, maschio. Chi è? Ah, Nico, Nico, Nico. Ah, maschio. Nico, ah, maschio. Ah, ma che vuoi? Come si mangia qui? Come se fosse a casa tua. Oh, allora me ne è male, che sono matto. Nico, Nico. Che, guarda che curva. E voilà, e voilà. Sì, sì. E voilà. Ah, io mi sono... C'è, c'è, c'è. Ah, io mi sono... C'è, c'è? Ah, sì, arrivo, plego, 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 che è? La curva. Plego, plego, plego. Guardi che stanno chiedendo qualcosa di fresco. Diffico. È chiuso, chiuso, è chiuso, è chiuso. E me si ha chiamato pure per il libro. Qualcosa di vivo. Qualcosa di vivo. Qualcosa di vivo. Qualcosa di... Che dati è? Tiè, mangiere. E cosa, ma Dio, anni, vado a fare un'altra cosa. Mi sono chiamato, mi sono chiamato. Ciò, niente, vuole qualcosa di fresco, gli ho messo la mosca nel piatto. Tu va fuori di qui, vattene via. Ma che ragazzi via? Va fuori via, fuori. Ma va a fancina, va. Ma famori ammazzato, va. Falza Italia. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.